ciao a tutti benvenuti al mio canale blog oggi vi faremo parlare di un cagnolone e di un carbonale oggi si ispiriranno roboclens e rocky claus incomincio la sfida sono roboclens sono il più grande sono il più grande bosso molte sti ogni volta sono roboclens non so che sto segretino lo farò wow cane sei stato forte no io posso con la mia con la micidiale ti posso mangiare che ti posso avere mio marzone ti posso giocare facciamo un bordello che cosa facciamo che cosa facciamo ecco le mie cugine saluta a tutti il pubblico allora sto registrando la pubblica dai salutala è degli anni novanta questa sai è degli anni novanta vero guarda è fatta grigia è che è degli anni novanta no no devo piacere la carta micidiale non la puoi mai avere di segretà ma non la puoi mai avere il vidrio ah benti ok distrugierà tutto il pianeta distrugierà tutto il pianeta ragazzi nooo nooo nooooo nooo noooo ma non lo vanti si no non la puoi mai ah ai ai e non ho chiesto di